cristiano malgioglio on fire a tale e quale show come al solito il paroliere non ha avuto peli sulla lingua per fortuna visto che il resto della giuria troppo spesso è affettato certo non si chiede a loretta goggi e a panariello di smontare le esibizioni non buone ma nemmeno sempre dare la caramellina è equo non c'è problema ci pensa zia malgi a fare le pulci e a tuonare pronti via nel corso della seconda puntata del talent show di rai 1 è sbarcata sul palco giosquillo nei panni di patti bravo si è avventurata in quella perla che è il brano il paradiso come è andata non bene la battuta geniale e infernale di zia malgi a tale e quale malgioglio è stato l'ultimo dei giurati a parlare e a fare la sua analisi non si è risparmiato non ho visto il paradiso mi hai mandato all'inferno e non ho visto nemmeno il purgatorio ha chiosato il paroliere dopodiché ha sottolineato che la concorrente ha cantato con una voce stridula c'era giosquillo e basta con la parrucca ha concluso va bene grazie mille ha tagliato corto l'attivista milanese che è andata a sedersi senza mandare avanti la polemica seppur ha mostrato poco interesse per ciò che ha detto il giurato malgioglio vox populi sui social si schierano dalla sua parte sui social in tantissimi hanno condiviso il parere del paroliere su giosquillo diversi gli utenti che hanno rimarcato che malgioglio è duro ma giusto nonché sempre in grado di esaminare con lucidità e competenza le performance a differenza dei suoi colleghi a volte troppo teneri sarà anche per questo che maria de filippi ha ruolato l'artista anche per la prossima edizione serale di amici la scorsa domenica la conduttrice pavese ha infatti chiesto all'amico se fosse disponibile a tornare a fare il giurato nel suo talent show zia malgi ha ringraziato e ha risposto che sì ci sarà probabile invece che michele bravi e giuseppe gioffre vengano sostituiti